Che c'è? Che c'è? Ma cos'è quella merda, Moscia? Perché non spremi un po' di bei lanci penuti, amico? Ok, allora torna al tuo posto e cerca di prenderli. Certo, sempre che arrivino. Dio solo sa adesso quale lancio sceglierà, stai esaurendo i nomi. Così il turno passerà a Dengshaw, che l'anno scorso è stato il primo dei White Sox nei fuoricampo. Come farà a concentrarsi con tutte le cause di riconoscimento di paternità che si ritrova sul gruppone? Sono molte per divieto di sosta. Certo, lo fai in macchina. Wong ha ricevuto il segnale e si prepara al lancio. Dà un'occhiata al corridore in seconda. Ed ecco il lancio per Shaw, che batte in profondità sulla destra del campo. Povero Serrano, ti servirebbe un missile fra le chiappe per prenderlo. Sembrava il Terminator, solo che era più lento. Forse era un Rallentator o il nuovissimo Sonicator. Chiunque avrebbe potuto prendere quel lancio anche dormendo. Sarebbe il caso che Vaughn se ne andasse a Funculator e che per un po' tornasse a fare Pankinator. Ho! Alla per la